Benvenuti in Ascania. Leonard Müller, un appassionato di orologi, ha avuto un'idea folgorante che lo ha portato alla realizzazione di un sogno, la rinascita del marchio di orologi artigianali di alta qualità Ascania. Nella sua sede a Berlino, Müller ha acquistato i diritti sul nome Ascania e ha lanciato la società Ascania EIG, ispirandosi alla storia del marchio per progettare nuovi modelli di orologi. Il marchio Ascania ha una storia molto interessante alle spalle. Fondata nel 1871, Ascania era inizialmente specializzata nella produzione di strumenti di precisione e orologi scientifici. Nel corso degli anni, Ascania si è affermata come uno dei principali produttori di orologi per l'aviazione, fornendo strumenti di precisione per gli aerei della Luftwaffe durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la guerra, Ascania ha continuato a produrre orologi di alta qualità, ma ha subito un declino a causa della concorrenza di massa. Tuttavia, il marchio è stato mantenuto vivo da pochi appassionati di orologi che ne hanno riconosciuto il valore e la qualità. Ora, grazie all'ambizione di Leonard Müller, Ascania è tornata a essere un marchio di riferimento per gli appassionati di orologi artigianali di alta qualità. Gli orologi Ascania sono realizzati con la massima precisione, dalle mani esperte degli orologiai, utilizzando solo i migliori materiali. Müller e il suo team si ispirano alla storia del marchio Ascania per progettare nuovi modelli, combinando funzionalità e ottica in modo unico. I modelli di orologi Ascania includono sia orologi da uomo che da donna, con diverse opzioni di cinturino e quadrante. La collezione Ascania Classic è ispirata agli orologi storici del marchio, con un design elegante e minimalista. La collezione Ascania Pilot invece si ispira agli orologi da pilota, con funzionalità avanzate e un design robusto. Infine, la collezione Ascania Marine è ispirata agli orologi da immersione, con resistenza all'acqua fino a 30 atmosfere. Ma gli orologi Ascania non sono solo belli da vedere, sono anche estremamente precisi e affidabili. Ogni orologio è sottoposto a rigorosi test di qualità prima di essere commercializzato, per garantire la massima precisione e affidabilità. Se sei alla ricerca di un orologio artigianale di alta qualità, gli orologi Ascania sono la scelta perfetta.